ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube questo gioiello è il creality falcon 2 un incisore laser da 22 watt creality produce da tantissimo tempo stampanti 3d sia resina che stampanti a filamento e ultimamente ha iniziato anche con gli incisori laser ma ha iniziato col piede giusto ha creato il falcon 1 che funzionava benissimo ve l'ho già recensito troverete il link nel primo commento nella descrizione e ora questo il falcon 2 da 22 watt che diverso da tutti gli altri incisori laser innanzitutto riesce ad incidere anche l'acciaio pure a colori e poi è riuscito a tagliare 18 mm di legno pieno di una doga di un letto con tre soli passaggi al 90 per cento di potenza impressionante tecnologia avanzatissima sia per quanto riguarda il modulo che per quanto riguarda la struttura limit switch ambo i lati insomma ragazzi davvero fatto bene e nel periodo di san valentino quindi il 14 febbraio ci saranno pure delle promozioni quindi ora ve lo metto sul bancone ti faccio vedere tutte le caratteristiche vi farò vedere molte inquadrature ravvicinate di questo incisore e se stai guardando questo video perché ti piacciono gli incisori laser ovviamente allora vai su facebook dove troverai il mio nuovo gruppo è un gruppo di appassionati di incisioni laser nel quale si può parlare sia delle macchine dei vari progetti risolvere dubbi proporre nuovi progetti insomma un gruppo nel quale si può dialogare fra amici incisioni laser con light barn si può parlare anche di altri programmi si può comprare vendere condividere eccetera eccetera ci sono tantissime idee ci sono tanti argomenti molto interessanti quindi vai giù il gruppo gratuito iscriviti e unisciti anche tu ti aspetto anche in quel gruppo troverai il link nel primo commento è nella descrizione quindi iniziamo e se devo essere sincero questa volta non so da dove cominciare perché questo incisore laser così tante così belle che non so a quale dare priorità allora iniziamo dalla struttura che arriva già montata questo è uno dei passi avanti per quanto riguarda gli incisori laser solitamente dopo averli acquistati bisogna sempre montare qualcosa questo invece arriva già montato una volta aperta la scatola ritroverete già il telaio pronto non dovrete né collegare spinotti né altro se non posizionare il modulo nella parte centrale che si fa semplicemente facendolo scorrere e stringendo questi due pomellini dopodiché bisogna connettere questo tubicino in silicone tra l'altro morbidissimo indeformabile ritorna subito nella sua posizione facendolo passare attraverso queste guide e incastrando poi connettore qua e questa cosa è semplicemente un elettrovalvola che permette al compressore che si avvia automaticamente di erogare l'aria e quindi ci permette di tagliare senza segni di bruciatura questa è la rotellina che permette di regolare la quantità di aria e questo è il tipo di connettore con 4 pin che va collegato in questa porta lo stesso tipo di connettore lo troviamo per l'alimentazione elettrica da questa parte qua infatti troviamo sia il tasto di accensione spegnimento l'ingresso dell'alimentazione l'ingresso del cavo usb questa volta finalmente di tipo c e questo è l'ingresso della micro sd perché questo incisore può lavorare anche non collegato al computer abbiamo la possibilità di spostare vari assi mandarlo in home fare il frame dopodiché possiamo avviare interrompere la nostra decisione questa è la chiave di sicurezza che ci permette una volta tolta di evitare che si possa accendere contro la nostra volontà e questo è fungo di emergenza che si preme per interrompere tutto al lavoro e poi per riprenderlo basta ruotarlo in questo modo come vedete non abbiamo noi cinghie in vista neanche cavi semplicemente questi due ma sono inevitabili e per quanto riguarda gli spostamenti abbiamo delle guide particolari infatti non sono delle guide lineari oppure le classiche guide con ruote gommate in questo caso abbiamo delle ruote con una sagomatura particolare che scorrono su questo tipo di binario che a differenza di tanti altri anziché avere la rientranza a una sforgenza quindi non si accumula sporcizia eventualmente con un pennellino se dovesse finirci qualcosa basta pulirlo leggermente ma non raccoglie comunque la polvere perché la polvere stessa tende a spostarsi sulla sinistra abbiamo anche questo accessorio che permette ai cavi di rimanere alloggiati senza invadere l'area di lavoro nella parte posteriore come vedete abbiamo questo limit switch lo stesso lo troviamo anche nella parte iniziale dell'area di lavoro e lì ci ritroviamo anche sia dal lato destro che dal lato sinistro e poi voglio farvi notare un altro particolare guardate nei profili abbiamo questi tre fori nei quali sono abitati i piedini e in questo caso è possibile anche regolare l'ampiezza quindi la distanza fra i piedini per poterlo adattare le dimensioni del piano di lavoro più di una volta mi avete visto utilizzare delle sporgenze per poter alloggiare bene l'incisore insomma il macchinario che stavo utilizzando perché i piedini andavano un po oltre in questo caso già rientrano perfettamente ma nel caso in cui avessimo bisogno di ridurre questa larghezza possiamo farlo senza problemi semplicemente svitandole e ridattandoli tra l'altro nella bustina dove vengono dati alcuni accessori quindi alcuni campioni per fare le prime prove troviamo anche dei rialzi perché nel caso in cui si stia lavorando con dei pezzi che abbiano un'altezza maggiore quindi non riescono a passare da questo spazio sarà possibile sollevarlo anche nel caso in cui si debba usare per esempio un rotary eccetera ma ora guardiamo il nostro modulo allora come vedete nella parte frontale abbiamo tre led questo sta ad indicare quando l'aria è attiva quindi quando l'elettrovalvola comunica al nostro compressore che tra l'altro eroga 30 litri al minuto ed è silenziosissimo non si sente assolutamente mentre sta lavorando è fatto davvero molto molto bene automaticamente si accenderà anche questo led questo invece il sensore di fiamma quindi nel caso in cui dovesse per caso prendere fuoco il pezzo sul quale stiamo lavorando comunicherebbe al controller che deve fermarsi e interromperebbe sia i movimenti che le incisioni e questo invece un ulteriore sensore che verifica della lente sia pulita e quindi nel caso in cui sia necessario ci dà la possibilità di pulirla evitando sia di ridurre la qualità del nostro lavoro che di legge lo stesso incisore sulla parte superiore del modulo laser troviamo questo tappo che nasconde questa presa usb tipo c più quest'altro tappino piccolo in gomma che richiama i tappi dei tasti di reset non so effettivamente a cosa possono servire comunque all'interno troviamo 4 diodi da 6 watt ciascuno quindi in totale 24 watt ma tra specchi e il filtro della lente alla fine abbiamo 22 watt totali e il punto di incisione è da 0,01 mm che anche se non è fra più piccoli comunque permette di ottenere degli ottimi tagli e delle perfette incisioni l'unica cosa a cui dovete fare attenzione eventualmente è controllare che le viti siano tutte strette nel modo corretto perché due viti non erano strette bene non influiva l'incisore ha lavorato perfettamente però un controllo generale non fa mai male e a proposito di controllo e di regolazione questa sulla parte posteriore sia a destra che a sinistra è la regolazione per la tensione delle cinghie per quanto riguarda invece quest'altra cinghia basta svitare questa vita spostare avanti e indietro la puleggia la massima velocità di incisione è di 25 mila millimetri al minuto quindi l'incisore laser attualmente più veloce che io abbia mai provato e le dimensioni dell'area di lavoro sono da 400 per 415 mm allora innanzitutto necessario poter mettere a fuoco e questo è il pezzo che viene dato in notazione come vedete abbiamo delle scritte che ci fanno capire qual è l'altezza giusta in base al lavoro che dobbiamo fare utilizzando l'altezza maggiore possiamo fare sia dei tagli che delle incisioni con pezzi che vadano da 1 a 3 mm invece abbassandolo con l'altezza intermedia possiamo fare dei tagli da 4 mm oppure con l'altezza minore quindi questo più piccolo possiamo fare dei tagli con pezzi che superano i 6 mm basta semplicemente posizionarlo sulla parte bassa svitare questi pomellini l'incisore si abbasserà evitate di farlo cadere in questo modo io adesso sto utilizzando una sola mano e quindi dopo avere regolato all'altezza possiamo stringerli spostare il nostro misuratore e a questo punto potremo fare le nostre incisioni e nostri tagli sulla parte frontale abbiamo anche questo vetrino che effettivamente filtra bene i raggi del laser io consiglio sempre di utilizzare gli occhialini però in questo caso hanno fatto davvero un buon lavoro guardiamolo anche dalla parte bassa e troviamo il nozzolo da cui fuoriesce l'aria che è possibile anche svitare infatti come vedete a questa parte zigrinata che permette di svitarlo con facilità e al di sotto troveremo la lente questo invece è sensore di fiamma nella parte laterale troviamo anche riferimenti in base a ciò che gli stanno ad indicare i led che si possono accendere di colore verde rosso oppure giallo per quanto riguarda invece la regolazione delle ruote quindi la pressione che devono fare sui profili abbiamo questo dato che come vedete va agire modo eccentrico sulle ruote stringendo più o meno il profilo e garantendo una maggiore stabilità ed evitando dei movimenti indesiderati ma ora guardiamo quello che ho realizzato quindi ciò di cui è capace questo incisore partiamo delle incisioni allora come vedrete c'è un incisione di spider man sulla sinistra e mezza incisione invece sulla destra perché avevo iniziato con questa incisione ma era un po troppo scura effettivamente anche se non stava avvenendo assolutamente male molto molto definite un nero corposissimo che però mi ha fatto sospettare che al lavoro finito potesse non essere comprensibile quindi forse ho sbagliato ho interrotto l'incisione e l'ho rifatta leggermente più chiara in questo caso come vedete si distingue altrettanto bene si vedono i chiaroscuri quindi riesce a gestire perfettamente tutte le varietonalità e le scale di grigio definendo perfettamente tutti i vari puntini e tutta l'incisione è venuta davvero benissimo poi alla fine l'ho ritagliato sempre con lo stesso incisore con una velocità di 600 mm al minuto con l'ottanta per cento di potenza ovviamente con l'era assist quindi un taglio pulitissimo senza segni di bruciatura ma poi ho fatto delle prove relativamente più semplici perché ho voluto vedere come riuscisse a ritagliare il nome andrea che andrà attaccato dietro la porta d'ingresso della camerezza di mio figlio e guardate con questa gomma eva come è riuscito a ritagliare perfettamente senza alcun segno di bruciatura anche in questo caso senza era assist un taglio nettissimo quindi pulito nei lavori anche più semplici ma i lavori più semplici possiamo farli con qualunque incisore quello che non possiamo fare con gli altri incisori e ottenere questi risultati questo è acciaio acciaio inox inciso con questo incisore laser e dando dei parametri che ancora effettivamente devo essere sincero non conosco bene ho fatto solo degli esperimenti e sono riuscito ad ottenere un incisione a colori ovviamente tutto quello che vi ho fatto vedere io vi farò vedere tutte le riprese dettagliate e time lapse ma guardate qua abbiamo delle tonalità di giallo delle tonalità di rosso delle tonalità di azzurrino quindi un incisione a colori che man mano che cercherò di capire ancora meglio poi farò eventualmente altri video ma riuscire a ottenere un incisione di questo tipo per esempio per realizzare una targa per una premiazione un regalo qualunque altro tipo di oggetto che abbia bisogno di questo tipo di incisione realizzando la colori sicuramente più bella del solo nero nella parte posteriore ho fatto la primissima prova con dei parametri che erano molto simili fra di loro anche in questo caso ottenuto una colorazione però è molto meno percettibile si intravede un po di azzurro un po di giallino però comunque è venuta una bellissima incisione fatta molto bene con questo effetto ombra pure dove ci sono il cacciavite e la chiave inglese ma quella che mi è piaciuta di più di tutti e senza dubbio questa che ha davvero una bella tonalità con diverse colorazioni quindi sicuramente una tecnica da approfondire e studiare meglio un po' di un po' di adesso guardiamo invece il lavoro sul legno ho tagliato questo pezzo questo logo di batman da 18 mm di spessore con tre soli passaggi io sono rimasto sbalordito che già secondo passaggio si vedeva il laser che stava passando e perché non sono presenti assolutamente segni di bruciatura la prima prova l'ho fatto con questo piccolo cilindro volevo vedere se riusciva se parametri erano corretti però ho fatto cinque passaggi o quattro passaggi non ricordo quindi il pezzo si era già staccato e c'era qualche segno di bruciatura ma rifacendo poi il logo di batman sia dalla parte anteriore quindi questa è la parte da cui inciso che dalla parte posteriore non ci sono segni di bruciatura se non in questo punto non ho capito per quale ragione comunque sia è riuscito davvero molto molto bene e con nessun incisore ero mai riuscito a ottenere questa velocità questa precisione e questa pulizia di taglio è è è è è è è è è però non ho fatto la prova sul multistrato in quel caso abbiamo anche la colla possiamo avere dei pezzi di scarto nelle pezzi che stiamo lavorando quindi in teoria potrebbe non andare bene sia la velocità che il numero di passaggi che le varie impostazioni che ho utilizzato ma 18 mm comunque su questo legno diabete legno pieno e riuscite a tagliarli senza alcun problema per quanto riguarda questa invece la dotazione all'interno della confezione troviamo anche questa scatolina con alcuni ricambi quindi alcune viti in più un adattatore che passa da usb di tipo c usb di tipo a delle chiavi di scorta ovviamente chiave a brugola la chiavettina per poter regolare le ruote eccentriche eccetera quindi semplicemente degli accessori per poter fare manutenzione ma troverete anche gli occhialini protettivi ovviamente non di altissima qualità ma sono degli occhialini che vi consiglio di utilizzare solo in caso di emergenza se volete comprare degli occhiali di buona qualità comprate gli occhialini che vi lascerò nel primo commento e nella descrizione quindi abbiamo l'era assist automatico in un incisore laser all'avanguardia che ci permette di incidere l'acciaio colori e di tagliare spessori importantissimi secondo me un incisore laser diverso da tutti gli altri che ha tante opzioni di utilizzo dall'utilizzo senza computer all'utilizzo con lightburn oppure con laser grbl completo fatto bene e potente io però non vi ho detto il prezzo semplicemente perché non conosco quale sarà il prezzo finale e voglio evitare di dare informazioni sbagliate mi è successo con un altro prodotto di dire il prezzo che avevo visto online quindi 1000 euro poi alla fine nel momento in cui ho pubblicato il video il prezzo era 570 euro quindi se volete sapere il prezzo di questo incisore semplicemente andate giù nel primo commento nella descrizione troverete tutte le varie informazioni sulle offerte sulle varie promozioni di san valentino eventuali codici di sconto eccetera non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale iscrivetevi anche al gruppo per gli incisori laser che trovate su facebook vi lascerò anche il link nel primo commento nella descrizione lasciate un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo a tutte le mie prossime realizzazioni e tutti i miei prossimi caricamenti ciao da Riccardo e a presto